La tecnologia è sempre più una preziosa alleata per la medicina. Oggi parliamo di tecnologia abbinata alla diagnostica, quindi radiologia per immagini, e parliamo della nuova TAC Revolution Maxima installata da pochi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, un tomografo computerizzato di ultima generazione con applicazioni di intelligenza artificiale. Il sistema, oltre ad una elevata risoluzione spaziale con telecamere tridimensionale e algoritmi di intelligenza artificiale, consente l'autoposizionamento del paziente per ridurre i rischi di errore nelle procedure e per limitare le dosi di radiazioni erogate. Parliamo di questa TAC intelligente, come è stata definita, con il professor Colosimo, che è in collegamento, che saluto. Professore, le chiedo subito quali sono questi vantaggi e perché questa TAC è stata definita intelligente. La principale caratteristica di questa nuova unità TAC, che è la prima in Italia e la seconda in Europa, è quella di avere un sistema che consente il posizionamento automatico del paziente e della parte del corpo da studiare dentro l'anello diagnostico. L'anello diagnostico che noi chiamiamo country è quello che contiene il sistema tubo e detettori. Questo sistema nuovo consiste in un'apparecchiatura basata su telecamere che sono messe a soffitto sopra il paziente, che insieme con un algoritmo di intelligenza artificiale fanno sì che il posizionamento del paziente sia sempre ottimale e in questo modo si ottenga la migliore qualità possibile di immagini, soprattutto con la minore dose possibile. Quindi più qualità, più velocità e meno radiazioni e questo è veramente molto importante. Perché è così importante appunto disporre di una tecnologia così sofisticata? Perché obiettivamente nella medicina moderna non esistono quasi più malattie in cui non si debba fare ricorso alla diagnostica per immagini. Una volta dicevamo radiologia, adesso diciamo diagnostica per immagini. E in questo ambito la TAC è lo strumento più utilizzato, quello strategicamente più rilevante, in malattie molto comuni. Quindi di fatto è la TAC che eroga la maggior parte della dose di radiazioni per motivi medici. E uno dei compiti primari del medico radiologo è quello sì di fare la diagnosi, ma di farla ottenendola con la minore dose possibile. Questo è veramente fondamentale perché la diffusione della diagnostica per immagini è tale che altrimenti si corre il rischio di erogare una dose superiore a quella che è strettamente indispensabile. Ecco, scendiamo un po' più nel dettaglio di quali situazioni, di quali condizioni possono essere indicate ovviamente per un'ATTAC in generale e a maggior ragione quali informazioni in più darà questa nuova TAC? Beh, entro certi limiti è più facile quasi dire le poche occasioni in cui non serve la TAC, però vediamole nella pratica. Vediamo qualche esempio che dimostra la consistenza e l'importanza dell'impiego della TAC. La cosa più semplice da indicare è la patologia oncologica, cioè i tumori, lo studio dei tumori, ma potrebbe essere tranquillamente la valutazione di tutte le grandi urgenze ed emergenze diagnostiche e terapeutiche, facciamo l'esempio dell'ictus ischemico-emorragico, o potrebbe essere quello delle urgenze addominali in cui l'ATTAC è diventata indispensabile. Ma per rimanere alla situazione contingente, pensate alla pandemia da Covid. Nel caso specifico della pandemia da Covid non c'è alcun dubbio che l'ATTAC sia lo strumento più efficace per fare la diagnosi della polmonite, che nella maggior parte dei casi è una polmonite interstiziale molto tipica, tanto che qualche volta è il radiologo nel fare l'esame per altri motivi che solleva il sospetto di polmonite interstiziale Covid correlata. Ma pensate anche non solo alla valutazione di questi pazienti per la prima diagnosi, ma come l'ATTAC segua per seguirli nel tempo, segua questi pazienti nella loro evoluzione e ci consenta di valutare l'estensione della compromissione polmonare, l'efficacia dei farmaci e la progressiva risoluzione. Ma soprattutto l'ATTAC è ancora lo strumento diagnostico essenziale per riconoscere una delle più temibili complicanze, vale a dire l'embolia polmonare, anche in questo caso è l'ATTAC che la fa da padrona. Quindi un intervento essenziale nell'ambito della pandemia da Covid. Ma al di là di questo quello che è più comune come impiego è l'impiego nella patologia neoplastica, nei tumori di qualsiasi organo e apparato, alcuni più, altri di meno, ma sempre con l'intervento dell'ATTAC. Ora l'ATTAC serve a fare la diagnosi, quando ci sia un sospetto clinico naturalmente, serve a fare la stadiazione, cioè a dire dove è arrivata la malattia, non solo quanto è estesa localmente, ma anche se ci sono metastasi a distanza e questo spesso implica lo studio di un ATAC che noi chiamiamo total body o di tutto il corpo, che quindi proprio perché è estesa a tutto il corpo implica una irradiazione piuttosto estesa, anche se le macchine oramai vanno molto velocemente. E poi non c'è altro strumento, dalla maggior parte dei casi dell'ATTAC, per avere l'evidenza di una risposta efficace a un trattamento. E spesso si cambiano i trattamenti proprio sulla base del fatto che l'ATTAC ha dimostrato che non c'è stata una risposta o che c'è una recidiva della malattia. Quindi questi pazienti sono spesso ristudiati continuamente e in alcuni casi si tratta rutinariamente di ottenere TAC di tutto il corpo a distanza di magari di pochi mesi, tre mesi. E questo è molto comune. E qui voi comprendete tutti quanti come in questo caso è importante che l'ATTAC sia di buona qualità, sia riproducibile, quindi sia confrontabile con gli esami precedenti e che, proprio perché la dobbiamo ripetere spesso, dia la dose minore possibile di radiazioni. Ma ancora, lasciando la patologia neoplastica per fare un esempio di malattie e di condizioni e scenari clinico-radiologici completamente diversi, pensate alle urgenze ed emergenze. E pensate per esempio al paziente politraumatizzato, quello del incidente automobilistico o motociclistico in cui il paziente arriva, viene soccorso, viene portato nel centro ospedaliero e spesso lì c'è bisogno di vedere il più rapidamente possibile quante e dove sono le lesioni traumatiche. E anche in questo caso è spesso necessario studiare tutto il corpo e magari ripetere l'esame anche con l'impiego di un mezzo di contrasto. E anche qui l'estensione dello studio e la sua modalità implica un'esposizione importante alle radiazioni che noi dobbiamo ottimizzare. Se abbiamo un sistema che riduce costantemente la dose assicurando la qualità siamo nelle migliori condizioni per fare una diagnosi rapida e completa, soprattutto di tutto il corpo. E sempre nell'ambito delle emergenze pensate al ruolo fondamentale che ha l'ATAC nel caso dei pazienti con ictus. Il deficit neurologico improvviso, la perdita di conoscenza che possono essere giustificate sia da un ictus ischemico o emorragico. In pochi secondi, e sono veramente pochi secondi, l'ATAC distingue tra queste due situazioni. E anche qui, se noi riusciamo a farla velocemente, bene, con una qualità elevata ma con una ridotta dose di radiazioni, sicuramente andiamo molto incontro alle esigenze diagnostiche. Facciamo il nostro lavoro a 360 gradi. Quindi uno strumento, quello che si è aggiunto alle possibilità del Policinico Gemelli, che produce molto, quindi c'è una produttività elevata, salvaguarda la qualità e riproduce la qualità nei controlli nel tempo e lo fa con bassa dose di radiazioni. Quindi è un esempio dell'impiego dell'intelligenza artificiale che probabilmente sarà il nostro compagno di viaggio nei prossimi anni anche per assistere il nostro lavoro quotidiano diagnostico ed aiutarci nella corretta diagnosi e nelle diagnosi differenziali. E sempre di più, oltre alla tecnologia, credo che la parola che entra a pieno titolo è proprio medicina personalizzata anche nella diagnostica, in qualche maniera l'autoposizionamento del paziente, la possibilità appunto di avere un quadro così specifico e così dettagliato, credo che in qualche maniera faccia la differenza rispetto al passato in cui gli esami erano un po' standardizzati. Certamente, certamente la strada è quella della medicina personalizzata. I protocolli sono una cosa estremamente importante da rispettare, ma poi c'è bisogno di aggiustare il tiro di volta in volta sul singolo paziente e aggiungo anche una cosa che non è irrilevante, e cioè che se noi abbiamo una macchina che ci assiste nel posizionamento e nel garantire la qualità, noi personale medico e anche chi ci sta vicino nel comparto sanitario, possiamo dedicare più tempo e più attenzione alle esigenze anche di contatto e di rapporto con i pazienti che sono altrettanto importanti del puro atto tecnologico. Quindi, se la tecnologia ci consente di fare più facilmente il resto, noi abbiamo più tempo e più modo di dedicarci anche alla cura del paziente intesa in maniera complessiva. Professore, la ringraziamo davvero moltissimo. Come sempre, innovazione si coniuga poi con qualità di cura e qualità di vita, per cui credo che in questo sia la summa, questa nuova tacca che possa offrire ai pazienti sicuramente immagini migliori, ma quantità di radiazioni minori che è sicuramente un vantaggio immenso. Grazie ancora per il suo contributo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei e soprattutto per l'attenzione a tutti chi ci ascolta. Grazie. Grazie, buona giornata professore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti